Mister Ciaramella, a primo tempo squadre corte, si è vista la qualità della sua squadra, a secondo tempo squadre più lunghe, però si è vista la qualità delle individualità della sua squadra. Sono d'accordo, grande analisi. A primo tempo sì, abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto bene il campo, un buon possesso, forse abbiamo sprecato un po' troppo e il Forio ha meritatamente pareggiato, il secondo tempo dopo il gol nostro c'è stato comunque il ritorno del Forio che poteva anche pareggiare la partita e così è il calcio, purtroppo quando si sbaglia tanto rischia anche di pareggiarla, però alla fine l'abbiamo legittimata e penso che la vittoria ci sta perché i ragazzi hanno disputato una buona gara. Il secondo tempo abbiamo visto un buon Forio nelle individualità, Rubino e Chiaiese hanno dato più spinta alla fase offensiva. Sì, due ottimi giocatori che già conoscevo, bene anche, molto bene anche Trofa, è una squadra di individualità un po' giovane e chiaramente sta pagando forse questo, però è una squadra che mi meraviglia come che ha zero punti perché comunque è una squadra che lotta, che ha un'identità, ha un gioco e dispiace perché io penso però che alla lunga i valori verranno fuori e cercheranno con qualche punticino e qualche vittoria la fiducia per risalire la china. Per quanto riguarda la sua squadra, tre punti che fanno morale ma fanno anche classifica, si guarda in alto. Noi siamo partiti in silenzio, senza grossi proclami, il nostro campionato deve essere un campionato per salvarci, per divertirci, la società è giovane, nuova, poco tempo ha costruito questa squadra, però i risultati per il momento ci stanno dando ragione, significa che il lavoro è stato fatto bene, dobbiamo continuare su questa strada, mai abbassare la guardia e cercare quanto prima di arrivare a quella quota salvezza per poi eventualmente pensare ad altro. Certamente Spilabotti e Allegrette sono giocatori che fanno la qualità e fanno la differenza e poi a Mendola, ai vari Costanzo, non è che state messi male? No, no, assolutamente, hai citato i giocatori dei nostri più rappresentativi e poi abbiamo tanti giovani, oggi in panchina avevamo tutti giovani tranne un over che era un 97, quindi questo fa capire un po' la nostra rosa, sicuramente di qualità su 6-7 giocatori che hai citato e il resto sono tutti giovani che stanno crescendo insieme a questi grandi, che sono di grande esempio, di grande modo di allenarsi, di comportarsi e questo fa sì che anche i ragazzi crescono insieme a loro e io le ringrazio uno a uno per quello che stanno facendo.